Eccoci qua! Abbiamo iniziato con la carrellata delle tue amiche, però io invece voglio sapere il tuo nome. Elena, con chi ti sposi? Stefano! Eh, si sposa con Stefano, guardate! C'è anche scritto con chi si sposa, con Stefano! Allora, quando è che ti sposi? 21 settembre! 21 settembre, da dove vieni? Crema! Da crema! Ma quale crema? Crema! Beh, c'è male i tipi di crema, mascarpone, che gusto? Nessun! Nessun gusto! È già emozionata, lì è già caduto il velo ancora prima di sposarla! Allora, dimmi dove è andato invece il tuo futuro marito a festeggiare il celibato! E io lo aspetto qui al convento, ok? Allora, insieme alle tue amiche salutiamo il tuo futuro marito, li mandiamo un bacio? Sì! Un bacio al tuo mamma! Ciao convento! Ciao! 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 Grazie a tutti